Calcio d'agosto dopo solo una settimana di preparazione. Non si poteva pretendere di più da Ovidiana a Sulmone Rosetana che si sono divise alla posta in palio nella prima amichevole stagionale disputata a Canzano, terminata in parità 0-0. Entrambe sono state schierate con il 4-3-3. Il tecnico dei sulmonisti Candido di Felice parte con 5 under e con il tridente formato da Cucurullo Bianchi ed Aquino al centro dell'attacco. Nei rosetani giocano dal primo minuto i nuovi innesti Mauti Ciminà e il bomber De Rosa supportato da Belfiore a destra e Boianga a sinistra. La gara comincia subito con un brivido quando Safon commette un fallo da rigore su Pavone. La rosetana non sfrutta però l'occasione per portarsi in vantaggio in quanto la battuta di De Rosa finisce alta. Il match offre poco ma nel primo tempo l'Ovidiana a Sulmone si spinge di più in avanti dando segnali positivi dal punto di vista del gioco. Nella ripressa girandola di sostituzioni con il tecnico di Felice che ad inizio del secondo tempo cambia 8 undicesimi mantenendo solo Aquino, Pacella e il portiere d'Innocenzo che sarà l'unico a giocare l'intero confronto. Non accade nulla sino al termine tranne una buona opportunità creata dagli Ovidiani con Di Cicco su assist di De Vincentis. Tutto sommato una prestazione positiva da parte di Biancorossi e pur vero che sono mancate le occasioni ma il primo test contro una squadra non inferiore ma di categoria ha reso il compito più difficile all'Ovidiana Sulmona che ha comunque dimostrato di avere molta qualità. I Biancorossi soprattutto nel primo tempo hanno ben figurato meritandosi consensi positivi delle diverse persone di Sulmone della Valle Peligna presenti a Cazzano per l'esordio stagionale.